. Barbara D'Urso, frecciatina a Cecilia Rodriguez in diretta a Pomeriggio 5. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso replica le accuse di Cecilia Rodriguez con una frecciatina. . È ormai guerra fredda tra Barbara D'Urso e Cecilia Rodriguez. Alle accuse della sorella di Belen sul settimanale Chi, la conduttrice napoletana ha replicato in diretta. Barbarella ha usato una frecciatina che non è passata inosservata ai telespettatori di Pomeriggio 5. . Incurante delle critiche la presentatrice ha continuato con i suoi ospiti a parlare del grande fratello Vipe e della storia d'amore tra l'Argentina e Ignazio Moser. . E a proposito del reality show, la D'Urso ha sottolineato di aver trovato non del tutto elegante il fatto che Cecu si sia rinfilata nel famoso armadio per fare una sorpresa al ciclista. . . Una scena che a molti è apparsa divertente mentre qualcun altro l'ha giudicata inappropriata come nel caso della dottoressa Jo. . . Stoccata di Barbarella sull'armadio di Cecilia e Ignazio. . 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 del suo programma pomeridiano di successo. Subito dopo la presentatrice ha addirittura chiesto ai suoi opinionisti se Cecilia abbia un lavoro. E ha poi concluso, magari un giorno potrebbe diventare mia opinionista se la reputo intelligente. Insomma, una stoccata bella e buona che ha infiammato il pubblico, soprattutto su Twitter dove tve sulla vicenda si sono sprecati. Come reagirà l'ex fidanzata di Francesco Monte a questo attacco? Per ora l'Argentina si è limitata, insieme col fratello Jeremías, a rifiutare l'invito a prendere parte a Domenica Live. Le parole di Cecilia contro la D'Urso e i suoi opinionisti. Quando sono uscita dalla casa ho sentito nei programmi di Barbara D'Urso frasi impronunciabili, devastanti. Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche ha spiegato Cecilia Rodriguez in un'intervista concessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Grazie per la visione!